Quali sono i vostri attori italiani preferiti? Attori italiani... Stefano Corsi. Ma gli attori italiani... L'attore italiano è un vigero cascio. Raul Bova. Un attore giovanissimo che mi piace molto è Luca Argentero, ma non è ancora famosissimo. Perché oltre ad essere bello è anche bravo. Poi gli attori storici italiani, mastroiani, attrici italiani... Mi piace un'attrice giovane, Giovanna Mezzogiorno. Mi piacciono gli attori italiani meno recenti, come Anna Magnani e Mastroianni. Quali sono i vostri attori italiani preferiti? Quali registi? Per quanto riguarda gli attori, preferisco sia Stefano Corsi, nel film Un ultimo bacio, e Raul Bova. Per quanto riguarda i registi, Pupia Vati, sì. Mucino. Vittorio De Sica. Vabbè, mi piace molto Nanni Moretti per le tematiche dei suoi film. Quali i film italiani classici? Classici? Eh beh, gli anni 40, Rossellini, chi veramente ha trasformato Cinecittà. Mi piace molto Otto e mezzo di Fellini. Roma città aperta. Totò, il film di Totò. Pano, amore e fantasia. Pano, amore. Pana, amore. Pano, amore.